Ci sono stati nei giorni neri del lockdown, in quelli dei tamponi a tappeto, poi nell'organizzazione dei Vaxpoint, sempre a supporto della macchina sanitaria. Ci saranno anche nella nuova fase quella della terza dose che partirà proprio dal lab vaccinale di Villorba nelle prossime ore. Una presenza, quella dei volontari di protezione civile che conta decine di uomini e donne schierate ogni giorno nella marca fino a 80 nelle 24 ore. Dal 21 febbraio del 2020 la protezione civile è sempre stata in campo con centinaia di volontari ogni giorno. Abbiamo sommato centinaia di migliaia di giornate di lavoro dei volontari della protezione civile che hanno regalato la collettività prima per gestire tutti gli aspetti a supporto della sanità nell'ambito in modo particolare della logistica, poi i punti tamponi, poi i punti vaccinali e quindi i volontari sono sempre in campo. Nel Trevigiano si sono toccate le 14 mila ore uomo al mese per un risparmio complessivo per le casse pubbliche di 250 mila euro, stima confermata dalla stessa provincia di Treviso, un esercito silenzioso che continuerà a fare la sua parte. Sono tanti ma soprattutto sono preparati. È giusto ricordare che dietro una divisa ci sono corsi di formazione e esercitazioni e non sono persone improvvisate. L'arrivo di Figliuolo nel megacentro di Villorba per l'assessore alla protezione civile Botacina sta a significare soltanto una cosa. È l'ennesima conferma della potenzialità del Veneto. Il generale Figliuolo ha preso in mano la situazione da alcuni mesi e sta un po' coordinando a livello nazionale. Vorrei ricordare che la competenza principale nell'ambito sanitario e quindi anche di conseguenza in tutta quella che è la macchina delle vaccinazioni è in capo alle regioni. Come avete ricordato tutti i sanitari che sono dipendenti della regione e poi dopo tutto il sistema del volontariato di protezione civile che viene gestito anche in questo caso dalla regione.